Resistenza alla guerra, resistenza per la pace, questo è il tema di un progetto promosso dal sindacato pensionati della CGL Abruzzo e Molise e dall'Associazione Il Sentiero della Libertà. Il progetto ha coinvolto quattro scuole superiori tra Abruzzo e Molise, ha voluto far emergere la storia locale nel periodo 1943-1944, cerimonia di chiusura al Teatro di Casoli. Antonio Iovito, segretario di Abruzzo e Molise dello SPI CGL, che insieme all'Associazione Il Sentiero della Libertà porta avanti questo progetto. Lei ha detto una frase molto significativa ai giovani, aiutateci a scrivere quella storia che a volte gli storici non scrivono. Sì, la seconda edizione che noi facciamo, c'è stato il periodo del Covid, quindi due anni abbiamo un po' sospesa, adesso quest'anno abbiamo corso e abbiamo pressato anche le scuole per cercare di arrivare a questa seconda edizione. Sì, perché ci sono molte delle cose che sono accadute in quel periodo che spesse volte sfuggono anche agli storici. Ed è un racconto che le scuole, gli studenti possono invece svelare e far crescere la conoscenza di quello che è avvenuto in quel periodo, che è una ricchezza della storia, che spesse volte ingiustamente viene considerata una storia minore, che non è così invece. Un sentiero della libertà che diventa sempre più lungo e sempre più largo. Maria Rosaria Lamorgia, presidente dell'Associazione Il Sentiero della Libertà, in questa cerimonia di conclusione di un progetto che ha coinvolto scuole di Abruzzo e Molise. Sì, è un progetto che noi stiamo portando avanti da qualche tempo, in collaborazione con l'ospice IGL Abruzzo e Molise, coinvolge appunto scuole abruzzesi, molisane e devo dire che prima del COIBID eravamo riusciti a coinvolgere anche scuole campane e laziali. Il Sentiero della Libertà è veramente un percorso di unione, dove la memoria diventa memoria attiva, memoria attiva per ritornare indietro nel tempo, ricordare fatti storici importanti, soprattutto personaggi storici, per quanto ci riguarda soprattutto quegli uomini e quelle donne che hanno partecipato e non sono entrati nei libri di storia, che sono stati però i protagonisti della resistenza umanitaria. Però ci porta anche più avanti, diventa un sentiero per riunificare anche, per far dialogare popolazioni diverse, per riunificare anche l'Italia, per tenerci insieme, un luogo dove camminiamo insieme. Sono stati proiettati video realizzati dagli studenti. I ragazzi dell'Istituto Patini Liberatore di Castel di Sangro hanno raccontato ciò che è stato lo sfollamento con la testimonianza di Dilia Iannucci di Villetta Barrea, all'epoca sedicenne. Io sono Dilia Iannucci, l'ultima persona vivente del periodo dello sfollamento a Gioia dei Marsi. Gli studenti del De Titta di Lanciano hanno presentato un lavoro su Castelfrentano, dove sono arrivate le truppe dopo aver sfondato la linea Gustav. Gli studenti del Fermi Mattei di Isernia hanno puntato sulla testimonianza di Giacinto Mucciarone. I ragazzi dell'Algieri Marino di Casoli hanno creato una relazione tra la linea Gustav e la linea gotica, rendendo omaggio alla memoria di Sergio Di Vitis e Donato Ricchiuti. Gli studenti del Fermi Mattei di Castelfrentano,